Sto salendo la scalinata di Trinità dei Monti, sotto c'è Piazza di Spagna, bellissimo oggi perché hanno messo tutti i fiori, un po' il fiatone, tutti i fiori primaverili, viola, bianchi, adesso vediamo da sopra com'è la vista. Bello! C'è la barcaccia là in fondo. Facciamo chiarezza su un altro concetto, a volte confuso, che cosa devo fare online per la mia azienda, per vendere grazie ad internet, devo fare un sito, devo fare un blog, devo fare dei video. Beh, sono due cose, due cose sole che dovete fare. La prima è parlare, spiegare il vostro prodotto o servizio al vostro pubblico di riferimento, quindi dovete fare qualcosa che arrivi come messaggio al vostro pubblico di riferimento. La seconda è arrivare a questo pubblico di riferimento, ok? Sono solo queste due cose da fare. Quindi, come si fa da prima? Bisogna creare un messaggio, bisogna comunicarlo con un sito, con delle pagine di vendita, con dei bei video, con degli articoli del blog, con un bel sito, quello che volete. L'importante è che sia un messaggio corretto, che risuoni nella mente del vostro pubblico target. Bisogna che poi sia un mezzo, quello del sito web o quello del video, quello dell'articolo, quello del podcast, quello che volete, che sia fruito dal vostro pubblico target. È inutile fare un bellissimo video se il vostro pubblico non guarda mai video online, ok? Secondo step, come si fa con la pubblicità online? È solo quella. Ragazzi, non c'è altro modo. Per salire la scalinata, per salire la scalinata del business online, bisogna spingere, spingere sulle pubblicità, altrimenti non raggiungete un pubblico sufficiente con il vostro messaggio. Se spingete quella pubblicità, raggiungete il pubblico corretto con il pay per click, con le pubblicità in Google, Facebook, LinkedIn, ma anche in YouTube e Instagram e avete un buon messaggio scritto e comunicato nel canale corretto, quindi video, scritto, audio, quello che volete, otterrete i risultati e riuscirete quindi a mettere in contatto la domanda con l'offerta e quindi il mercato vi premia. Quindi, se siete un imprenditore, libri professionisti, queste sono le due cose sulle quali vi dovete concentrare. far parlare, comunicare, far passare il messaggio del vostro prodotto o servizio e poi raggiungere il vostro pubblico target in organico e con le campagne a pagamento di advertising online. Ciao da Roma, alla prossima!